Buongiorno Continuate voi Non sento, vabbè, scrivetemelo Un bel buongiorno un cazzo, sì Mannaggia il crocistrada Scemo Oh no Sa fare fiamme dal culo Minchio Che guida Comunque Ringrazio ancora Brixia Supercar Ringraziamo, vero? Ringraziamo davvero Ringraziamo tutti I nostri amici di Brescia Sono stati veramente grandi Bellissima città Siete favolosi Vi voglio bene Anche Minchio Vi vuole bene Anche Minchio Vi vuole bene E niente, adesso si torna a Milano Scusano sempre cose belle Tipo il mio amico Minchio È proprio Uno si sveglia la mattina Di domenica mattina Per essere ribattizzato Minchio Bello Mi piace Minchio Grazie Ti voglio bene Metti dello scompiettino Dai un colpettino di gas Lascia Questo rumorino così Ta 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 ZIGIA! il mio amico Minchio carina fa spesa grazie Minchio salto mamma mia sembrava in ora anzi Clebi ti dispiace ti chiamo Minchio? vabbè dai non è io ti voglio bene perchè tu sei così però se ero un altro prendevo gli schiaffi e allora Minchio ancora lui è bello Minchio a portare un umbrish a pranzo salame il mio amico Minchio Mirko sei pronto? spettacolo senti i codori come era? Minchio ha detto si era buono il salame? ok sono contento molto contento subito ci sono disponibili già iPhone 13 a partire da un centesimo ragazzi 14 euro e 29 578 puntate utilizzate per un iPhone 13 ragazzi pazzesco venite con me vi porto sulla sezione Apple eccola subito pronto sezione Apple guardate che lavoro ecco iPhone 13 vai è semplice basta fare così stai vincendo vai speriamo bene vai 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 io continuo qua a vedere e a cercare di portare a casa qualcosa se fate click così tac 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 e vi iscrivete vi lascio 10 puntate totalmente gratuite quindi potete provare tranquillamente stavo a pensare una cosa ma quanto vede a gusto arzuga arzuga è ormai diventato un tormentone bravi arzugate perché fa bene veramente oh no oh no com'è? bene che stai fa? eh? che stai fa? ho maniato che hai maniato? l'agnello con le patate quanto è grasso oh ma mamma eh fai fammi vedere il cincillà mamma stai camminando al scemo fammi vedere fai fammi vedere il cincillà sì sta bene? sì che ha fatto? che ha fatto il cincillà? che ho fatto? sta pesciato ma va ti manco? ci manca? sto bene vedo bene la cataratta la cataratta come va? bene ci vedi? ecco tra qualche giorno con i peli ci vedi? sì ci credo e allora guarda sto cazzo ma va o no eh mamma tocchi tocchi una poccina un po' tocchi una poccina un po' che seppia tocchi la tocchi la sì tocchi la tocchi la tocchi una poccina ma sì basta ne puoi portare e c'ha da fare c'ha da fare c'è da fare domani ore 13 e 30 sarò al San Giuseppe Villoresi con Mini Car Monza quindi sarò a Monza in questo istituto alle 13 e 30 vi aspetto lì fuori anche da Carletto Life Car ci vediamo lì che ci vediamo lì